Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 68esimo episodio della nostra Master League con l'Inter Signori, l'episodio è incredibile, quello che è uscito mercoledì, anche se è uscito tardi vi chiedo scusa per l'orario, ma c'è stato un piccolo problema, un piccolo imprevisto tecnico-tattico Signori, siamo riusciti a rimontare il Dortmund che attualmente è secondo in classifica con 18 punti noi siamo riusciti a rimontarlo, perdavamo 1-0, abbiamo vinto 2-1 signori ci troviamo 6 in classifica con 9 punticini e non va male, non va male signori, non va male ovviamente non posso, non penso minimamente signori alla promozione quest'anno, non minimamente ma dobbiamo cercare di fare punti per cercare di costruire la squadra per poi riuscire a raggiungere una serie A in maniera molto tranquilla detto questo però ci vediamo di partire il video, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i studenti e per il supporto e vi ricordo di iscrivervi al canale detto questo andiamo a fare gestione informazione perché io ho dovuto... no, no, no carica, inter, ok devo un attimino fermarmi rispetto al video di mercoledì che avete visto adesso sto nuovamente registrando che cazzo devo fare? sì, premi, sì, devi caricare, sì adesso un attimino ringredito signori, ok il passaggio della formazione lui dovrebbe caricare in automatico, perfetto allora, Ivanov Stromer, Valery, Vorlanden, Jorga Cellini, Matt Babangida, Miranda, Castello Bolatta va bene, cerchiamo con il Liz, signori noi più che puntare a una promozione, signori, che penso che se saliamo in serie A ci affaltano peggio che praticamente l'ANAS quando deve rifare gli mandi stradali e dobbiamo cercare di racionare più punti possibili per comprare giocatori, signori che giocatori dobbiamo comprare? mi servono giocatori veloci, signori magari questo non è lo schema migliore al mondo me ne rendo conto, me ne rendo assolutamente conto non è lo schema migliore al mondo perché abbiamo troppi giocatori dietro e pochi effettivi davanti però, 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 signori però, 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 come si suol dire attenzione, Babangida, Babangida, Babangida che nello scorso video è stato premiato come MVP Babangida, madonna mia, se si inseriva lì, Babangida ma voi vi immaginate al posto di Miranda prendiamo un certo Roberto Carlos o comunque un altro giocatore veloce, signori mi serve un giocatore che abbia una velocità esplosiva potremmo riprendere, no, Semau magari, no perché poi diventiamo, prendiamo sempre i stessi giocatori no, Semau, no, Jorni e mi serve un giocatore esplosivo, signori mi servono due giocatori da tenere perché gliela passi lì, mannaggia a te, a chi non te lo dice buono, buono, abbiamo aperto no, mannaggia, se questa palla arrivava a Babangida mannaggia a te che hai i piedi storti buono, buono che possiamo partire potevamo partire in contropiede mannaggia mannaggia a te, a chi ti ha programmato madonna la spallata che gli ha dato meno che non gli hanno fischiato il rigore, signori andiamo dentro, gli ha dato una spallata che spostati proprio, Matt Babangida, Babangida, vai Babangida parti Babangida chiedi l'1-2 Babangida ma perché, mannaggia no, 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 mannaggia se chiedevamo bene l'1-2 con Babangida in quel momento era fatta, signori in quel momento era fatta se partiva Ivanov te la stavi tirando dentro io ti tiravo ma ti tiravo fuori ma come ti bocciavo subito no, 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 no Ivanov mio ti amo Ivanov mio ti amo hai recuperato subito l'errore che stavi a fare prima grande Miranda io devo ricordarmi che devo giocare in modalità calma relax in modalità calma relax in modalità calma relax guarda Babangida che però non ha nessuno ma lui c'è proprio da fuori porca miseria dai che era un'azione da gol ma quanto sei il bastardo che non mi fai vedere che le mie azioni le tiri tutte come superficiali ma quanto sei il bastardo attenzione il bamba il bamba il bamba chiede l'1-2 chiede l'1-2 perché così larga sta cazzarola di palla mannaggia a te e a chi non te lo dice pure tira la e te così volata ha segnato volata signori ha segnato volata la fine del mondo sta arrivando la fine del mondo sta arrivando gran tiro di Babangida respinta dal portiere volata finalmente riesce in un anticipo del cavolo signori e ci partiamo in vantaggio sull'Its allora calma e sangue e freddo signori calma e sangue e freddo che la partita non è che è lunga di più la partita non è che è lunga di più signori la partita non è che è lunga di più no pallone mannaggia tieni tieni non dovevi fare l'intervento sciolata mannaggia dovevi tenerlo dovevi tenerlo grandissimo Matt recupera Babangida 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 tieni fisicamente Babangida tieni fisicamente Babangida dai così dai così Babangida grandissimo Babangida chiedi l'1-2 no 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 Babangida mio Babangida mio lì dove chiede l'1-2 pulito però cazzalo di una miseria guarda Babangida guarda Babangida porca miseria Babangida che chiede l'1-2 pulito Babangida 2-0 mamma mia calcio spettacolo signori Babangida porta l'inter sono 2-0 contro il Leeds spettacolo 1-2 pulitissimo il portiere non esce Babangida con la sua velocità brucia tutti porca miseria porca caccia miseria porca caccia miseria se avessimo un attaccante veloce signori Ronaldo lì Ronaldo ci divertiremo tanto signori vedete se lì c'era uno come Stojkavic non saremmo mai arrivati a prendere il pallone perché Stojkavic nel momento dell'1-2 non sarebbe riuscito ad accelerare in maniera giusta per raggiungere quel pallone invece Babangida essendo veloce è riuscito nell'1-2 come in questo caso Babangida la vuole chiudere Babangida mannaggia 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 Matt mio mannaggia invece Babangida con la sua velocità ha asfaltato tutti ed è questo è stato buono mannaggia no 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 fuori fuori sta palla fuori sta palla va bene soffriamo 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 ma va bene così Babangida 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 inter 2 lits 0 no 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 a lui l'1-2 non l'1-2 a lui mannaggia di una miseria infame mamma mia mamma mia mamma mia attenzione attenzione Babangida no era un 1-2 mannaggia a te era un 1-2 bellissimo era un 1-2 bellissimo e pulito porca miseria vai Babangida grande Babangida grandissimo Babangida no ma perché non mi prende gli 1-2 mannaggia a te a chi non te lo dice pure mannaggia a te a chi ti ha programmato male mannaggia a te a chi ti ha programmato male va bene va bene signore ci siamo ci siamo oramai l'Inter ha ingranato signore l'Inter ha ingranato ancora 1-2 veloce fra Babangida ci avevi a castello lì ci avevi a castello lì mannaggia buco difensivo buco difensivo buchissimo difensivo grandissimo Ivano va al 40 quattresimo inter 2 lits 0 signori al 40 quattresimo inter 2 lits 0 si aspetta l'ultimo momento per il passaggio a Babangida che però poi perde il pallone vediamo se l'albitro fischia l'albitro ancora non fischia alla fine del primo tempo Babangida ok finisce il primo tempo lits 0 inter 2 signori porca miseria porca miseria sono 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 scioccato signori non mi aspettavo minimamente una partita del genere però va bene però va bene andiamo andiamo loro hanno fatto una sostituzione che a noi non ce ne frega minimamente nulla c'è qualcuno che vuole giocare qui sulla fascia si però c'è andato Babangida che non dovrebbe stare lì va bene però ricopriamo una rimessa laterale va bene stiamo vincendo 2 a 0 cortesemente vorrei evitare non ho capito perché Babangida non è partito ma è normale che il nostro giocatore sia rialzato perché c'è qualcuno qui sulla fascia no c'è qualcuno c'è Matt guarda Matt Matt che la posiziona Matt allora va bene non parlo non parlo signori non parlo perché ci stava il fallo ci stava il fallo però va bene il gioco giustamente deve anche deve anche un attimo boicottarti quindi va bene non so che cazzola di gol abbiamo preso signori non so come si fa a prendere un gol del genere più che altro non è tanto non so che cazzola di gol abbiamo preso non so come si faccia a prendere un gol del genere no 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 non ci posso credere ci hanno pareggiato vincevamo 2 a 0 ci hanno pareggiato 2 a 2 sono 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 pienamente scioccato sono pienamente scioccato però va bene vincevamo 2 a 0 signori porca miseria infame vincevamo 2 a 0 mamma mia mamma mia che dormita mamma mia mamma mia stanno facendo il buono e il cattivo tempo signori stanno facendo il buono e il cattivo tempo cioè non so che cosa sia successo non so che cosa sia successo cioè siamo rientrati concentrati come erano stati tutto il tempo non so cosa cazzarola sia successo va bene va bene cose che succedono cose che succedono nel mondo del calcio il pallone è rotondo e non riusciamo più a fare due passaggi di fila è normale come cosa? assolutamente no però però va bene però va bene questi ci hanno recuperato due gol in maniera una più stupida dell'altra cioè perché semplicemente non siamo riusciti a fare no ma va cioè potevamo partire in contropiede giustamente non me l'ha fatto fare il contropiede e vabbè adesso non lo fai fare il contropiede però è partito Babangita signore è partito Babangita che aspetta l'uomo giusto che aspetta ma ma perché no vabbè tiralo 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 non era a rigore questo non era a rigore non era a rigore va bene va bene va bene signori va bene signori ricordiamoci che il nostro obiettivo è sempre quello di non perdere il nostro obiettivo è sempre quello di ricercare di non perdere mi da troppo fastidio per aver per aver no 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 valeri mio questo è fallo da munizione addirittura da munizione ma da munizione io non non ci voglio credere non ci voglio assolutamente credere non ci voglio assolutamente credere cioè mi hanno munito valeri per non si sa che cosa non si sa che cosa abbia fatto valeri che si è beccato sto cartellino giallo però va bene giustamente valeri è veloce valeri può creare dei problemi me lo fai fare l'uno due ma io non capisco perché non deve prendere gli 1 2 quando gli gli chiedi no 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 ma dove sei andato a cercarlo ma dove sei andato a cercarlo ma dove sei andato a cercarlo ma 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 come si fa a essere così 1 2 1 2 1 2 ma perché gli arda è sempre così larga mannaggia a te mannaggia a te a chi non te lo dice pure ma pomogito pomogito 3 a 2 dell'inter 3 a 2 dell'inter 3 a 2 dell'inter non capisco perché gli 1 2 funzionano ma me la deve dare così male ma me la deve dare così male porca miseria a momenti era pure il rigore a momenti era pure il rigore signori a momenti era pure il rigore non lo vorrei non voglio continuare a sottolinearlo ma era poteva essere pienamente un rigore solo che non me l'avrebbe mai dato signori non me l'avrebbe mai dato mai nella vita il rigore lì no mette mio non mi puoi sbagliare queste azioni però mette mio mette mio no 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 vabbè dai e va bene rimessa la trale rimessa la trale soffertissima partita soffertissima partita bravissimo no 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 grande Ivanov tienila lì tienila lì Ivanov tienila lì Ivanov tienila lì Ivanov Ivanov tienila lì con calma con calma con calma con calma eccetera ho cercato un babangita un po' va bene va bene trentottesima rimessa la trale nostra rimessa la trale nostre calma calma relax calma relax guardalo babangita alza di meno ma arti doppio il giallo espulsione attenzione 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 meno male che papangita si è alzato signori perché se papangita non si alzava no avevo le praterie avevo le praterie sono stato stupido sono stato stupido non se l'aspettavo la triangolazione con non se l'aspettavo la triangolazione no 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 calma 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 relax calma relax calma relax calma relax calma relax calma relax un po' fai girare sto pallone che siamo già al 44esimo bello così bello così bello come il sole bello come il sole bello come il sole minuto di recupero minuto di recupero porca miseria minuto di recupero minuto di recupero Minuto di recupero, albito fischia, albito fischia, albito fischia, albito fischia, albito fischia, albito fischia, mannaggia a te, albito di, albito di, sì signori, l'Inter batte il Leeds, 3 a 2, porca miseria, mamma mia che vittoria signori, mamma mia che vittoria, porca miseria, 13 tiri a 8, 13 tiri a 8, ma chi ha segnato per noi? Bolatta, doppietta di Babangita su assist, prima di Castello e poi di Bolatta stesso, porca miseria signori, dai così, dai così, imprevedibili, imprevedibili realmente, mamma mia sofferenza, mamma mia sofferenza, mamma mia sofferenza signori, però dai, facciamo dei punticini importanti, facciamo dei punticini importanti, siamo a quota 20 punti per il mercato, non male, non male, non male, 20 punti per il mercato, Riuscissimo ad andare avanti così, riuscissimo ad andare avanti così, signori, potremmo fare grandi acquisti, però va bene, però va bene, teniamoci quello che abbiamo per ora signori Quarta vittoria consecutiva, 12 punti, siamo a pari punti con West Ham, anche lui a 12, e distacchiamo il Marsiglia, quindi prendiamo fiato da Marsiglia, ma rimaniamo agganciati dall'Amsterdam, dall'Ajax, che purtroppo ci rimane col fiato sul collo Signori, detto questo, vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento, bella raga, ciao!